Il positivo e l'aspetto negativo di ieri, a me ha convinto moltissimo la parte europea, ha fatto una parte molto seria, un'ora e mezzo, due ore, una discussione bella, quasi due ore, molto convincente sui termini europei, giusto, anche quel riferimento al giugno 2014, perché noi parliamo sempre dei 18 mesi, ma la vera data che segna il futuro della politica italiana e europea è il primo giugno, quando l'Italia prenderà...